Bar Dolce Bar, buongiorno! Ci trasferiamo, la mia ragazza, la titolare, era stanca di stare qui, troppo caotico Eccomi qui! Pensavi che non venissi, eh? Ci speravo! Ciao Claudio, ho portato il pranzo! Ehi, brava la mia sorellina! Fede! Grazie! Fermi lì! Margherita Fumero ed Enrico Beruschi! Oh, in carne ed ossa! Lei più in carne che ossa! Io mi sono sempre chiesto, ma voi due siete sposati anche nella realtà? Claudio, ho mai deciso, la vendita va a Monte Anche noi andiamo a Monte, al Monte dei Pegni, se fai una cosa del genere Signorina, ecco, mi sembrava che mancasse qualcuno Buongiorno, buongiorno E allora è arrivato il triste momento L'ora del drammatico commiato Cioè, non per farmi i fatti vostri No, lo dico perché c'è quel triste detto che le parrocchiere sono delle impicciole Ah, volgari menzogne, eh? Salve a tutti! E tu che ci fai qui? Sono venuto a salutare la mia concorrenza, anzi, ex concorrenza Perché, come si dice, si chiude una porta e si apre un portone Bravo, prendi uno di due e vattene Hai ragione Angie, non possiamo andare via da qui Dobbiamo trovare una soluzione per restare Bisognerebbe che fosse il nuovo proprietario a rinunciare all'acquisto Ma è impossibile, appena visto il bar se l'hai innamorato Ragazzi, ho un'idea Ma ho bisogno di tutti voi A inizio l'operazione Salva Valle